Il primo anno è stato un anno drammatico, un anno speciale, un po' per tutti noi questo qui, nel senso che ci ha messi alla prova e probabilmente un po' a tutti ha fatto scoprire cose nuove. E' il momento di fermarsi. Non ci si credeva finché non ci siamo stati qualche settimana in casa. Determinante, secondo me, è sempre l'atleta, che riesce a trasformarla anche con fantasia la soluzione di un problema. Era una sensazione unica, quasi da mettersi a piacere. Un ritorno di fiamma, se fosse una storia d'amore sarebbe un ritorno di fiamma. Provi anche solo a immaginarti da vicino cosa significa e perdi completamente contatto con la realtà.